Il punto è Napolitano. Chiedere l'impeachment alla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E bisogna dirlo con grande forza. Napolitano è il garante della tenuta democratica del Paese oggi contro lo sfondamento populista. E Grillo sta facendo politica nel vecchio modo di fare politica. Guardate che Grillo è la cosa più grave che ha detto Grillo in quella scombiccherata conferenza stampa al Senato. E vogliamo prenderci lo Stato. Vogliamo vincere le elezioni per prenderci questo Stato. Non lo dice anche Berlusconi. Dica vuole il 51% per rifare lo Stato. Per prenderci lo Stato. Qui lo Stato non se lo deve prendere nessuno. Questo è un Paese che ha bisogno di governo, ha bisogno di risposte concrete sull'occupazione, il lavoro, come rilanciare l'economia. Il Movimento 5 Stelle è totalmente assente da questi temi. Non esiste. Perché hanno decine e decine di rappresentanti in Parlamento che passano il tempo ad applaudirsi tra di loro per interventi che dicono nulla. È chiaro questo. E l'accentuazione dei toni ieri di Grillo serve anche per coprire, ancora una volta con un modo vecchio di fare politica, un risultato clamorosamente negativo nelle elezioni amministrative. Mi voglio una curiosità, Misiani. Ma che è successo con lei? 5 Stelle le ha fatto causa? Le vedrà in tribunale? Ma guardi, Grillo nel maggio del 2012 ha messo una mia segnaletica, che non c'è mai stata perché non mi hanno mai fatto un segnaletico. C'era una fotina? Una fotina tipo segnaletica, accanto alle fotine tipo segnaletiche di Lusi, di Belsito. Beh, lei si è offeso, ha pure ragione. No, mi sono offeso. Quando mia figlia, che ha 11 anni, ha visto quella pagina sul blog di Grillo, giustamente mi ha detto ma cosa c'entri tu con Lusi e con Belsito? Allora, siccome io devo difendere il modo in cui lavoro io, ma soprattutto il Partito Democratico, come gestisce le risorse in modo trasparente, che non c'entra assolutamente un fico secco con le vergogne che sono volute fuori dall'inchiesta giudiziaria, ho querelato. Beppe Grillo è un sede civile penale, l'ho annunciato e l'ho fatto. Beppe Grillo è stato rinviato a giudizio, ci saranno in udienza. Questa è un'utile precisazione, perché molti lo annunciano e non lo fanno. Per esempio, Fabrizio, la famosa querella di Francesca Pasquale a Labbone è mai stata fatta? Ha 90 giorni di tempo per farla, poi la faranno i suoi avvocati probabilmente, lo sapremo. Solo vivendo. Questo per dire che anche questa cosa insopportabile, siete tutti uguali, siete tutti la stessa cosa, devo iniziare a smontarla. Grado in pubblicità leggendovi un'agenzia suprema della Michela Biancofiore che legge l'intervista di Barbara Berlusconi e dice Sono molto contenta che la figlia del Presidente abbia detto cose chiare sull'opportunismo interno a Forza Italia. Serve un grillismo azzurro da opporre ai cultori del politically correct e della poltrona.